e la televisione sul miglior iPhone c'è ora mi fai vedere un attimo come cazzo si fa qui aspetta aspetta eh perché mio mio bello sta bene siamo in diretto eccolo eccolo guarda un po' Stefano guarda un po' guarda un po' guarda un po' qua che parola sei spiega la televisione ma è indifferita è indifferita ma c'è da registrare da andare guarda che si sposta e ti seguo non può essere di me ed è, vedrai io bello però se io vado a casa e faccio il tuo canale viali al centro viali al centro ora io su twitter ho mandato un messaggio che sto trasmettendo quelli che mi seguono su twitter se sono lì lo vedono e vanno a vedere poi finito di farlo posso registrare e condividerlo su facebook grazie 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 grazie